Ha chiesto alla Prefettura di Salerno e alla Regione Campania di incrementare la presenza di forze dell'ordine sul suo territorio il sindaco di Eboli Massimo Cariello, nel cui comune ieri si è registrato un mini focolaio di 24 dipendenti positivi di un'azienda agricola. Otto sono residenti attualmente nel comune di Eboli, sei sono stati trasferiti in strutture fuori comune. Non c'è però per il primo cittadino una vera e propria emergenza sanitaria che riguarda in modo particolare le comunità di cittadini extracomunitari che operano nei campi della Piana del Sele. La situazione, secondo il sindaco di Eboli, è sotto controllo, tant'è che non c'è al momento nessuna intenzione di inasprire le misure anticontagio. Noi stiamo monitorando insieme all'ASA, abbiamo comunicato alla Regione Campania se eventualmente volesse prendere degli ulteriori provvedimenti, però anche questa mattina ho sentito la dottoressa Nobile di Collusca che è un'eccellenza del nostro territorio e che devo dire però tutto ciò è uscito fuori perché abbiamo fatto e stiamo facendo un'intensa attività di prevenzione di tamponi nel nostro territorio perché sono tante le aziende agricole che sono state tamponate quindi hanno fatto lo screening e tanti sono anche coloro che sono venuti dall'estero e anche da altre parti della regione, da altre regioni dell'Italia, quindi consentendo appunto diciamo di avere un monitoraggio ancora più chiaro perché credo che questo dato da un lato può sembrare preoccupante, però dall'altro lato è importante che ci sia perché ci dà un quadro della situazione attuale, ci fa rendere conto che aumentando il numero di tamponi, perché essendo tutti asintomatici quindi possiamo monitorare e tenere sotto controllo e quindi diciamo anche tamponare nel senso diciamo del termine di fermare quindi l'ampliarsi del Covid-19. C'è un'emergenza secondo lei che riguarda in modo particolare le comunità di lavoratori extracomunitari che vivono sul suo territorio? Io credo che ci occorra continuare su questa strada, cioè quello di fare questa intensa attività di prevenzione che è partita già, noi abbiamo anche comunicato alla Prefettura quindi con altre realtà di associazioni del settore perché abbiamo consentito per esempio a tutti coloro che andavano nel Marocco prima di partire di fare i tamponi, l'abbiamo fatto insieme all'istituto profilattico anche oltre che al nostro laboratorio di biologia molecrale che è un'eccellenza di ebole e così come anche un'eccellenza in modo particolare l'attività intensa che sta svolgendo l'ASL in collaborazione appunto con i medici che sono offerti all'interno dell'USCO, quindi credo che questi siano dati importanti che ci devono far avere un quadro chiaro della situazione, dobbiamo tenere alta l'attenzione. Quanti sono i cittadini in quarantena ora, Sindaco? In quarantena i positivi ebolitani sono 16, di questi 16 8 sono quelli collegati all'azienda, 5 è quel ceppo di quella famiglia che sono venuti dall'India e che purtroppo non li hanno controllati all'aeroporto di Roma come è successo anche del ceppo dell'azienda perché colui che è venuto dal Mali è passato per la Francia, è arrivato a Roma e non è stato controllato all'aeroporto. L'altro caso è un ragazzo che è in quarantena, non ha deboli ma è un altro comune e che è collegato al ceppo dei ragazzi della Sardegna e abbiamo altri due casi dove pensiamo che siano collegati a dei ceppi di vacanze fatte nei famosi siti che tutti quanti noi conosciamo. Penso di poter arrivare a chiedere di indossare la mascherina sempre? Ora per ora lo stiamo facendo quindi per la serie in modo particolare, io ho chiuso una piazza importante che è una piazza così considerata a rischio però se la cosa dovesse proseguire... Grazie. Grazie. Grazie.